3.746 sono i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo. Questo dato di ieri è il dato più alto dal mese di febbraio. Complici giorni di festa durante i quali è stato sospeso il tracciamento e complice anche l'allentamento delle misure di contenimento del virus, la crescita dei positivi al Covid in Abruzzo è la più alta in Italia. Il bollettino regionale di ieri parla di una vera e propria impennata. Il numero degli attualmente positivi è salito a quota 49.393, un dato che preoccupa e che impone ancora grande prudenza. I contagi sono talmente elevati che è difficile ormai tracciarli tutti. A circolare sono sempre Omicron 1 e Omicron 2, le varianti estremamente trasmissibili. Coprono ormai l'82% del territorio, mentre non sono tracciate per il momento le altre varianti come Omicron 3, XE e XJ. Stando ai dati di ieri, l'Abruzzo ha di nuovo il ruolo di regione in cui il virus si sta diffondendo di più in questa fase dell'anno. L'incidenza settimanale dei casi ogni 100.000 abitanti è salita a 1.010 casi. Al secondo posto c'è l'Umbria con 798 casi, mentre la media italiana è di 596. Per ora il Chietino è al secondo posto in Italia come incidenza a quota 1.134 casi. Per ora il Chietino è al secondo posto in Italia come incidenza a quota 1.134 casi.